Partiti. L'editari, mentre per linee interne è Ranflat e Suelita. Siamo all'attacco della salitina. Ranflat, Suelita e Radio Londra figurano in leggero vantaggio. Poi nel tratto conclusivo lungo lo steccato, Ranflat prende un leggero vantaggio. Seguito da Radio Londra, Cellotta, poi anche Suelita. Si aggiunge anche l'editari nel finale, però è Radio Londra che prende la meglio. Rivediamo le immagini e Radio Londra, dopo aver avuto una leggera incertezza, riprende il sopravvento e probabilmente nei pressi del palo raggiunge e batte Ranflat. Mentre per il terzo posto è Suelita, a precedere l'editari e Alagos finiti vicino.